Ma guarda che incontro il mio cammino, la superbia, come sta, come sta, mi dica. Oh, magnificamente, sono un inetto per definizione, dedito all'ozio, non sono capace di fare un bel nulla, se non naturalmente l'ambizione che è occhi di bronzo e quindi nessun tipo di interesse per l'umanesimo, per l'uomo, figuriamoci, no? E quindi sono il stato come punto di riferimento per tutti, ma è straordinaria la vita contemporanea, per noi superbi. Davvero? Mi dica, ma cosa ne pensa di oggi? Oh, guardi, è un mondo, è veramente il paradiso per noi superbi, è una cosa straordinaria, guardi, non so che dirle, guardi, adesso non ho tempo, però guardi che Moliere e Vittorio Bò devono essere nati veramente nell'epoca sbagliata, oggi lavorerebbero talmente tanto, figuriamoci, quindi la lascio al dominio degli abissi.